Dopo anni di buio, dopo anni di disattenzione e di distrazione, dopo anni di denunce portate avanti da Vincenzo Agostino, accompagnato da Agusta, la moglie che ci ha di recente lasciato, c'è finalmente un processo che riguarda l'uccisione dell'agente Agostino e della moglie Ida. Una terribile tragedia che ha colpito una famiglia, che ha colpito il Paese, che ha anche colpito le forze dell'ordine, quelle impegnate seriamente nel contrasto della comunità organizzata, in un sistema, in un tempo nel quale tra le stesse forze dell'ordine, tra gli stessi esponenti politici, tra gli stessi uomini dell'istituzione, c'era invece chi stava dall'altra parte, stava dalla parte della mafia e della comunità organizzata. La impunità diventa una drammatica conferma di quel compromesso, di quella compromissione, ecco perché il processo che si è avviato nel quale il Comune è costituito partecivile costituisce un elemento di fiducia e di speranza nella capacità dello Stato di espellere dal proprio interno le parti marce e corrotte. Grazie.